Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Dalle Vallate, subito la cronaca in apertura. Oggetti religiosi ritrovati presso il cimitero di Cortona Farneta e restituiti al parroco Don Teodor Iani, vicario della parrocchia di Camucia. La restituzione è avvenuta presso la sala rapporto della compagnia Carabinieri di Cortona. Sono 24 oggetti sacri ritrovati il 27 luglio scorso portati via dalla parrocchia. Rimaniamo nella zona di Cortona. Nel comune di Cortona è stato completamente rinnovato uno dei ponti che si trovano in zona Cappuccini, lungo la strada che conduce all'eremo francescano delle Celle e presto arriveranno ulteriori interventi. Sindaco, un intervento fortemente richiesto dai cittadini. Si pone l'attenzione sulla zona dei Cappuccini, la strada che porta alle Celle, ora il ponte e poi si pensa anche alla strada. Sì, certamente le Celle è un luogo molto visitato dai religiosi non solo, quindi è un luogo importante, ricorda a pieno San Francesco. Quest'anno è l'anno dell'estima di San Francesco, il 2026 è l'anno degli 800 anni appunto della morte e quindi noi abbiamo iniziato quel percorso di miglioramento anche dell'ambiente e del contesto. Quindi il ponte al di là di tutto necessitava un intervento, 190 mila euro di contributo regionale più 20 mila euro di contributo comunale e 210 mila euro di intervento. Credo che sia un'opera davvero importante che ha messo in sicurezza un passaggio che era precario. Ora passeremo all'asfaltatura della strada e probabilmente anche ad interventi sul piazzale. Ecco, questo appunto era un intervento richiesto sia da chi frequenta le Celle ma soprattutto dai residenti perché insomma questa è una zona abitata. È una zona abitata, è una zona fruita abbondantemente dai turisti e non solo dai religiosi ma oltre che la richiesta ai cittadini che ringraziamo ma è anche una volontà di questa amministrazione che ha studiato la criticità e che ha portato avanti il progetto arrivando fino ad attingere al contributo regionale. Quindi noi ci abbiamo creduto e credo che l'opera sia fondamentale. Rimaniamo in Valdichiana, andiamo nel comune di Civitella a Tegoleto. Nove nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Tegoleto sono stati realizzati d'intesa tra Arezzo Case e il comune di Civitella. Arezzo Case e Comune hanno acquistato e recuperato un edificio in via delle Signorie che giaceva da anni in stato di abbandono a causa del fallimento della cooperativa costruttrice. La consegna delle chiavi è prevista per lunedì 23 settembre. In Casentino si ripresenta il problema degli ambulatori pediatrici che sono carenti rispetto alla popolazione della vallata e le associazioni delle famiglie chiedono la riapertura degli ambulatori di supporto così come era stato fatto nei mesi passati. In Casentino si prospetta una situazione piuttosto difficile andando avanti per la pediatria di famiglia, soprattutto dopo che una pediatra ha lasciato il lavoro, quindi soltanto due pediatri. Ma qual è veramente la situazione? Ci sono due pediatri di famiglia, sicuramente persone brave e competenti, che però in questo momento devono seguire più di 3.000 famiglie. Questa è una situazione che già si è verificata in passato, che però non può sicuramente durare per più di un periodo temporaneo. E proprio per questo noi abbiamo chiesto alla ASLA di intervenire. Intervenire in che modo? Ripetendo quello che già era stato fatto nell'inverno 2022-2023, attivando degli ambulatori integrativi di supporto. Questi erano ambulatori che sono stati proprio attivati grazie all'impegno dei nostri nuovi direttori di distretto nelle zone appena costituito, sia in Casentino che in Valtiverina. Prevedono delle presenze due o tre volte alla settimana, fra cui c'era anche sabato mattina in Casentino, di altri pediatri di famiglia oppure di specializzanti pediatri. Ovvio che questa non è la soluzione ottimale, però ha consentito sicuramente di passare l'inverno in modo molto migliore rispetto a quello che poteva essere. E quindi noi abbiamo insistito notevolmente fin da ora, in caso che si prolunghi questo periodo d'assenza, per non lasciare scoperte le nostre famiglie. Non è possibile veramente pensare di passare l'inverno, anche questo inverno, in una situazione del genere. Dobbiamo anche ricordare che se viene fatto anche un bando, come naturalmente la procedura prevede ed è già stato attivato, però i tempi sono sempre lunghi. Ma infatti era questo, uno dei punti della nostra proposta è proprio la costituzione di questi team cosiddetti misti. Ci spostiamo con il prossimo servizio a Sansepolcro. Apre sabato 31 agosto il nuovo McDonald's di Sansepolcro, è situato in via Senese a Retina. Si tratta del quarto locale in provincia di Arezzo. 30 le assunzioni effettuate. Il conto alla rovescia è iniziato. Aprirà sabato 31 agosto il nuovo ristorante McDonald's di Sansepolcro, situato in via Senese a Retina. È il quarto ristorante McDonald's nella provincia di Arezzo che ha portato a 39 assunzioni. Un team di lavoro che proviene per la maggior parte dal comune di Sansepolcro e dall'area Limitrofa. Sabato 31 agosto è prevista alle ore 10 la cerimonia del taglio del nastro con la presenza delle autorità e con l'apertura al pubblico alle ore 11. La festa di inaugurazione ora luogo nel pomeriggio dalle ore 17 con intrattenimento per grandi e piccini. Un'occasione per scoprire il nuovo ristorante e trascorrere momenti di convivialità gustando le ricette e le proposte più celebri di McDonald's. Il ristorante è pensato anche per i più piccoli attraverso aree e servizi che regalano alle famiglie con bambini momenti di spensieratezza e divertimento. Sempre ai più piccoli è dedicato il servizio festeggio il compleanno da McDonald's che permette di celebrare il proprio compleanno organizzando una festa a tema proprio all'interno del ristorante. Il ristorante ha la doppia corsia, il McDrive, servizio pratico e veloce grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine. Anche McCaffè direttamente dalla propria auto. Il nuovo McDonald's sarà aperto tutti i giorni dalle 7 a mezzanotte. Sarà presto disponibile anche il servizio McDelivery per la consegna a domicilio. Adesso i servizi dal Val d'Arno. Il Consorzio di Bonifica è il lavoro per mettere in sicurezza l'ospedale della Gruccia da eventuali piene dell'Arno. Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana ottenuto nel 2022, il Consorzio di Bonifica sta effettuando lavori per la messa in sicurezza dell'ospedale del Val d'Arno. L'intervento sul borro al Quercio ha l'obiettivo di evitare i rigurgiti dell'Arno durante le piene che minacciano il torrente. Con la possibilità di interessare il vicino presidio ospedaliero. L'intervento consiste nella realizzazione di una paratoria, attualmente in corso di lavorazione. C'è stata una prima fase che si è conclusa con la realizzazione della fondazione che consenterà poi successivamente di installare questa paratoria che è un organo importante perché si parla di una struttura di 3 metri per 2 in metallo che è dimensionata per permettere il corretto deflusso minimo vitale. Quindi rispetterà non solo la parte di mitigazione del rischio idraulico ma anche dal punto di vista ambientale consentirà il deflusso minimo per la salvaguarda di tutte le specie e dell'ambiente circostante. L'intervento del consorzio dal valore di 350 mila euro coinvolge il territorio di San Giovanni Valdarno e si inserisce in una serie di interventi che il consorzio ha effettuato nel comune e che continuerà a fare anche in futuro grazie alla collaborazione con l'amministrazione sangiovannese. Su Borro al Quercio si tratta in questo caso di un intervento minoritario perché sono 350 mila euro ma abbiamo già candidato per alcuni bandi della regione toscana un intervento complessivo sul Borro al Quercio che noi ci aspettiamo che possa essere finanziato dalla regione toscana e già su questo sta nuovamente lavorando il consorzio di bonifiche. Villa Masini a Montevarchi al centro di una mostra fotografica presso il cassero per la scultura. Fotografie per scoprire l'anima di Villa Masini a 100 anni dalla sua costruzione. Una mostra che sarà allestita presso il cassero per la scultura di Montevarchi a cura del circolo fotoamatori Mocchi. Scatti che ritraggono uno dei simboli del Valdarno e degli stili Liberty e Deco in Toscana. Una villa che è un simbolo per la nostra città non soltanto legata appunto alla sua bellezza perché è stato il simbolo anche dello sviluppo economico del nostro paese. Il proprietario Angiolino Masini appunto vuole realizzare questa spendita villa in onore della sua seconda moglie e lì c'è il simbolo della ricchezza economica della nostra città legata in quel periodo alla produzione del cappello ma anche alle grandi relazioni internazionali e che in particolare i grandi impenditori del territorio avevano con la Francia e quindi si ritrova tutto uno stile Liberty su questa villa ma anche su tante altre ville della nostra città che ci fa capire quanto questo imbombile sia un simbolo soltanto di bellezza ma anche appunto della storia economica del nostro paese. Foto recenti e meno per raccontare la storia di un luogo che oltre alla villa contiene delle perle come il parco, la serra e la rimessa nel quartiere del Pestello. Ogni fotografo ha presso un'area ben precisa e ha raccontato quel pezzettino, quindi c'è il concentrato in un'area cercando di riportare alla luce tutta una serie di aspetti esternamente visibili e magari anche interiori. È un stato lavoro secondo me molto interessante perché di fotografie su Villa Mesini ce ne sono veramente tante, ci sono libri, ci sono pubblicazioni. Io credo che con questa operazione abbiamo fatto con 27 fotografi ci sia qualcosa di più, c'è l'anima di un po' di tutti questi fotografi. Sarà questa una delle quattro mostre attive durante le Feste del Perdono. Una mostra che sarà bellissima, che non celebrerà solo il compleanno della villa, ma celebrerà anche tutta un'intera comunità per come questa villa si lega incredibilmente alla storia di questa città e di questa comunità. Con il servizio da Montevarchi termina questa edizione del nostro Tg dalle Vallate. Grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi. Grazie.